Migliaia di posti di lavoro in meno, ricchezza che alimenta organizzazioni malavitose, rischi per la salute e riduzione delle entrate fiscali, che poi devono essere compensate dai contribuenti onesti. Sono questi, secondo un'indagine condotta da Confartigianato, le principali conseguenze dell'abusivismo e del lavoro nero nelle imprese artigiane italiane. I dati in possesso di Confartigianato dicono che in Piemonte due imprese su tre sono esposte alla concorrenza sleale del sommerso, per la precisione il 65,9% delle aziende artigiane piemontesi. A livello nazionale sono infatti 3.724.000 le unità di lavoro equivalenti non regolari, occupate in prevalenza per 7 casi su 10 come dipendenti e i restanti come lavoratori autonomi. Un dato allarmante che si riflette anche a livello provinciale. Torino è in testa con il 66,9% di aziende esposte a concorrenza sleale. Seguono con valori poco distanti Vercelli e Asti, che hanno una media superiore a quella nazionale. Verbagna, Novara e Biella si posizionano, seppur di poco, al di sotto della media nazionale, che è del 64,7%. Per il Piemonte i settori maggiormente esposti alla concorrenza sleale sono quelli delle costruzioni con il 63,6%, seguono i servizi alla persona con un buon 20,2% e i trasporti e magazzinaggio 8,5%. La percentuale scende per i servizi di alloggio e ristorazione 4,4%, i servizi di informazione e comunicazione 1,4%. Scarsa invece è l'esposizione nei settori agricoli, della fabbricazione dei mezzi di trasporto, dell'istruzione, della fabbricazione di prodotti chimici e dell'industria estrattiva, che chiude la classifica dell'esposizione a concorrenza sleale con lo 0,1% dei casi.